Discriminazione, sistemi di conciliazione, vita e lavoro, un'impresa possibile. È il nome del convegno organizzato da FIDAPA, provincia di Matera, comune di Pisticci, ordine degli avvocati di Matera e ufficio della consigliera regionale di parità della regione Basilicata, svoltosi nei giorni scorsi. Nel corso del convegno si è discusso delle discriminazioni pre- e post-maternità che ricadono sulle donne lavoratrici e sulla famiglia. Sono stati poi illustrati da Franco Pesce, dirigente dell'ufficio programmazione della regione Basilicata, i contenuti dell'intesa conciliazione famiglia-lavoro. Proprio nell'ambito di questa intesa è stata attivata ed è tuttora in corso la sperimentazione di modelli innovativi di servizi di cura per l'infanzia nei comuni di Brindisi di Montagna, Miglionico e Castronuovo Sant'Andrea con l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle donne. Grazie.